ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo video tutorial oggi vi porto un video molto molto pratico così se avete bisogno insomma di andare ad integrare facebook messenger all'interno del vostro sito web sarete in grado di farlo grazie a questo video tutorial perché oggi vi spiegherò esattamente come potete fare questo andando ad utilizzare un plugin completamente gratuito quindi se siete interessati ad attivare messenger all'interno del vostro sito oggi vi spiego come fare comunque se questa è la prima volta che vedete uno dei miei video io mi chiamo roberto marchesini e sono il fondatore di assistenza a wordpress ovvero un sito web dove aiutiamo soprattutto aziende e professionisti a crearsi a gestirsi il proprio sito web utilizzando wordpress naturalmente lavorando con molti clienti su diversi siti web abbiamo avuto modo di andare ad attivare appunto la chat di messenger all'interno dei siti dei clienti quindi sono sicuro che questo video tutorial vi tornerà di grande aiuto per il vostro progetto online come sempre a me piace fare dei video molto molto sul pratico quindi adesso passo sul mio pc così vi faccio vedere proprio tutti i passaggi passo dopo passo che dovete seguire per integrare messenger all'interno del vostro sito wordpress nello specifico appunto questo tutorial è specifico per quanto riguarda la piattaforma wordpress comunque all'inizio vi farò vedere come potete integrare messenger utilizzando appunto un plugin come vi dicevo poco fa però come secondo metodo vi farò vedere anche come potete integrare facebook messenger semplicemente tramite codice che vi fornisce facebook stesso quindi vi basterà semplicemente prendere il codice fornito da facebook incollarlo all'interno del vostro sito vi farò vedere esattamente dove dovete incollare il codice e in questo modo avrete integrato messenger all'interno del vostro sito web e questa seconda procedura vi può tornare di aiuto anche se non state utilizzando wordpress per gestire il vostro sito quindi sono sicuro che vi tornerà di grande aiuto ad ogni modo dopo questa lunga introduzione passiamo sul mio pc che vediamo come potete integrare messenger all'interno del vostro sito ok ragazzi all'interno di questo video vi farò vedere come possiamo andare ad inserire messenger all'interno di questo mio sito demo ovviamente voi sarete in grado di inserire messenger all'interno del vostro sito web ora il plugin che andremo ad utilizzare in sostanza è il plugin che è stato sviluppato da facebook stesso magari vi lascio il link del plugin qui sotto in descrizione quindi adesso semplicemente vado a copiarmi il nome del plugin e tra parentesi comunque ragazzi ci tengo a dirvi che se scorro un attimo la pagina come vedete questo plugin non ha ricevuto diciamo molte recensioni positive ora non ho ben capito il perché probabilmente per molti utenti è difficile da configurare ad ogni modo se guardate questo video vedrete che tanto difficile da configurare non è comunque mi raccomando guardate questo video senza saltare i vari passaggi e vedrete che riuscirete anche voi ad integrare facebook messenger tranquillamente all'interno del vostro sito ad ogni modo ora torno sul back end del mio sito di test quindi questo sito vado qui su plugin aggiungi nuovo e naturalmente mi vado ad installare il plugin ufficiale di facebook quindi vado a copiarmi il testo qui sulla barra di ricerca e il plugin da installare naturalmente è questo primo plugin quindi me lo vado ad installare e ad attivare su questo mio sito demo perfetto ora che il plugin è stato attivato è stata aggiunta una nuova voce qui sulla sinistra quindi andiamo a cliccare su questa voce qui naturalmente andiamo a cliccare su questo pulsante per iniziare con il setup e qui adesso facebook ci va a chiedere quale pagina dobbiamo andare ad integrare all'interno del nostro sito quindi a quale pagina sarà collegato appunto facebook messenger adesso vado a selezionare assistenza vp quindi clicco su continua qui clicchiamo su next e qui praticamente qui possiamo andare a personalizzarci il nostro messaggio di benvenuto quindi qui diciamo c'è il classico messaggio di benvenuto qui naturalmente mi raccomando andate a scegliere la lingua italiano se ovviamente il vostro pubblico di riferimento sono le persone italiane qui se volete potete andare a mettere la spunta su on se le persone insomma possono contattarvi senza essere registrate a facebook quindi a voi la scelta per il momento lascio questa funzionalità disattivata e qui se volete potete andare a vedere la preview da mobile ad ogni modo adesso andiamo a cliccare nuovamente su next qui potete andare a personalizzare ulteriormente la chat di messenger quindi ovviamente qui trovate tutte le impostazioni per quanto riguarda dove volete far visualizzare questo diciamo widget all'interno del vostro sito per me lascio tutte queste informazioni così come sono di default perché insomma sono le impostazioni classiche di facebook andiamo a cliccare su finish e come potete vedere adesso praticamente la chat è stata attivata all'interno del mio sito clicchiamo su done ed ecco qua che praticamente adesso il setup iniziale è stato terminato infatti come vedete qui adesso il plugin ci dice che la chat adesso è stata in salita all'interno del nostro sito web adesso per verificare semplicemente prova magari a ricaricare la pagina quindi semplicemente l'home page del mio sito e vediamo se la chat viene visualizzata eccola qua come avete visto non ho assolutamente messo in pausa il video e facebook messenger è stato integrato all'interno del mio sito web davvero nel giro di 2-3 minuti quindi come avete visto non so come mai il plugin abbia ricevuto tutte queste recensioni negative comunque ragazzi davvero andare ad inserire messenger all'interno del vostro sito è molto molto semplice ora magari vado ad aprire anche questo link in una nuova finestra in incognito così vedete insomma che tutto funziona bene quindi adesso come vedete siamo in modalità incognito vado ad incollarmi il link e adesso naturalmente dovremmo riuscire a vedere la chat di messenger eccola qua quindi insomma ragazzi tutto funziona perfettamente adesso come vedete widget ci chiede di accedere a messenger perché avendo visitato questa pagina da incognito naturalmente non sono collegato con il mio account facebook ad ogni modo naturalmente se vado a cliccare qui posso andare ad effettuare il login a facebook in questo caso non me lo fa fare perché sono in modalità incognito ad ogni modo se provate da un browser normale quindi della vista normale riuscirete tranquillamente a chattare con i vostri visitatori quindi questo per fare naturalmente un test all'interno del vostro sito quindi come avete visto comunque adesso se continuo con il mio nome ecco qua che posso andare praticamente a chattare all'interno della mia pagina quindi qui scrivo semplicemente ciao test in questo modo e naturalmente questo messaggio verrà visualizzato all'interno della mia pagina facebook quindi naturalmente adesso se vado all'interno della mia pagina facebook come potete vedere ecco qua che il messaggio è stato ricevuto correttamente all'interno della mia pagina ora ovviamente non posso farvi vedere questa vista perché insomma abbiamo anche gli altri messaggi dei nostri clienti comunque come avete visto il messaggio è stato ricevuto correttamente ovviamente se vado a cliccare qui potrò andare a rispondermi e quindi il messaggio lo vedrò anche qui all'interno del mio sito quindi ragazzi andare ad integrare facebook messenger grazie a questo plugin ufficiale fatto proprio da facebook come potete vedere è stato davvero un gioco da ragazzi ora comunque come vi dicevo all'inizio di questo video adesso vado a togliere praticamente questo plugin perché vi faccio vedere un altro metodo che potete utilizzare per inserire messenger all'interno del vostro sito web quindi vado proprio ad eliminare questo plugin che così vi faccio vedere anche il secondo metodo ovvero il metodo manuale senza l'utilizzo dei plugin adesso che ho disattivato il plugin se vado a ricaricare la pagina naturalmente vedrete che ecco qua la chat adesso non si visualizza più perché abbiamo eliminato il plugin ora il secondo metodo ovvero il metodo manuale che onestamente vi consiglio rispetto all'andare ad installare un plugin aggiuntivo all'interno del vostro sito perché insomma non fa altro che andare ad appesantire le pagine del vostro sito web semplicemente andate praticamente sulle impostazioni della vostra pagina quindi la pagina di facebook nel mio caso ovviamente sono su assistenza wp qui sulla sinistra andate proprio su settings quindi sulle impostazioni adesso io ho facebook in inglese ad ogni modo andate qui su messaggi e poi all'interno di questa categoria praticamente trovate la voce che vi permette di andare ad inserire messenger all'interno del vostro sito quindi praticamente aggiungi messenger al sito web andate a cliccare su get started o inizia insomma e qui vi inizierà la procedura guidata non vi preoccupate che è molto semplice adesso vi faccio vedere comunque come prima cosa innanzitutto dovete andare ad aggiungere il dominio del vostro sito quindi qui come primo step andate a cliccare su questa penna e andate ad aggiungere il vostro sito web nel mio caso il mio sito è già stato aggiunto come vedete assistenza wp online punto net che vi faccio vedere ecco qua il mio dominio quindi dovete andare semplicemente ad aggiungere il dominio del vostro sito quindi il mio dominio è già stato aggiunto poi naturalmente ragazzi su questi secondi passaggi come sempre vi permette di andare a personalizzarvi diciamo in modo di messenger per il momento io lascio tutto così come di default comunque voi se volete potete andare a personalizzarvi tutto quanto qui in alto a destra come sempre facebook vi fa vedere diciamo messenger sia vista desktop che vista mobile ad ogni modo vado semplicemente a pubblicare messenger quindi vado a cliccare su publish e adesso semplicemente vado a cliccare sul pulsante setup qui come sempre facebook ci fa scegliere la lingua di messenger io lascio la lingua italiano andiamo avanti quindi allo step 2 qui ancora ci fa aggiungere il dominio se l'avete già fatto insomma qui vedrete il dominio che è già stato aggiunto e qui praticamente dovete andare a copiarvi questo codice semplicemente cliccate su questo pulsante che il codice verrà copiato in automatico all'interno del vostro pc adesso semplicemente dovete prendere questo codice e lo dovete andare ad inserire all'interno del vostro sito ora naturalmente ragazzi dovete andare ad inserire questo codice in modo tale che si visualizzi su tutte le pagine del vostro sito o comunque sulle pagine dove volete far visualizzare la chat di messenger quindi la cosa che vi consiglio di fare io magari è quella di andare ad inserire il codice all'interno del footer del vostro sito questo perché il footer viene caricato sempre all'interno del vostro sito web quindi per andare a modificare il footer del vostro sito web vi basta semplicemente tornare sul pannello di amministrazione di wordpress andare su aspetto widget e qui troverete appunto il widget del footer eccoli qui quindi c'è footer widget 1 2 3 e 4 ad esempio vado nella sezione widget 1 e come vedete qui trovate scritto get in touch with us perché praticamente è questa scritta qui come potete vedere ora semplicemente dalla sinistra andate a prendermi il widget html personalizzato e me lo andate a trascinare praticamente all'interno del vostro footer non ha da varia importanza se è il widget 1 2 3 o 4 perché comunque questo codice non verrà visualizzato da parte dei vostri visitatori quindi insomma state tranquilli qui come titolo mi raccomando lasciate il titolo vuoto e qui all'interno di questo campo semplicemente andate ad incollarvi il codice che ci eravamo copiati prima da facebook quindi questo codice qua ve lo andate ad incollare e semplicemente cliccate su salva adesso se torniamo all'interno dell'home page del nostro sito e semplicemente andiamo a ricaricare la pagina il codice verrà caricato all'interno del nostro sito web e quindi ecco qua che come vedete adesso messenger è stato integrato correttamente all'interno del nostro sito come vi dicevo il codice non verrà assolutamente visualizzato da parte dei vostri visitatori come vedete il codice non viene visualizzato e naturalmente visto che abbiamo inserito il codice sul footer del nostro sito se andiamo ad esempio sulla pagina store quindi sulla pagina negozio vedrete che la chat di messenger verrà comunque caricata e quindi ecco qua che si vede correttamente naturalmente ancora se adesso vado a cliccare su continua come roberto quindi con il mio account facebook ecco qua che come vedete vediamo praticamente i stessi messaggi di prima questo sta a significare che abbiamo integrato correttamente facebook messenger all'interno del nostro sito wordpress eccoci qui ragazzi siamo arrivati alla fine del video naturalmente spero di esservi stato di aiuto con questo video tutorial se vi sono stato di aiuto come sempre vi invito a lasciarmi un bel mi piace sotto a questo video così mi aiutate insomma a raggiungere più persone con i miei tutorial e se non lo avete ancora fatto come sempre vi invito anche ad iscrivervi al nostro canale youtube oppure di mettere sempre un bel mi piace sulla nostra pagina facebook perché vado a pubblicare video esattamente come questi ogni altro giorno praticamente che vi possono tornare di aiuto per i vostri progetti online adesso o in futuro quindi mi raccomando iscrivetevi ad ogni modo all'interno di questo video vi ho fatto vedere le due procedure che io consiglio insomma alle persone appunto che vedono i miei video per andare ad integrare facebook messenger all'interno del proprio sito web quindi potete fare questo grazie a un plugin completamente gratuito per wordpress oppure potete prendere il codice fornito proprio da facebook stesso e lo potete andare ad inserire all'interno del vostro sito che come vi dicevo all'inizio di questo video potete fare questa cosa anche se non state utilizzando wordpress perché questa procedura insomma va benissimo per qualsiasi tipologia di sito web quindi ragazzi se avete dei dubbi o delle domande su quanto spiegato all'interno di questo video tutorial potete tranquillamente lasciarmi il vostro commento sotto a questo video che insomma a me fa sempre piacere leggere tutti i vostri commenti e se siete interessati ad altri argomenti per quanto riguarda la creazione o gestione di un sito wordpress andate semplicemente sul nostro canale youtube che li trovate davvero centinaia di video tutorial in modo completamente gratuito che vi possono aiutare con i vostri progetti online ad ogni modo per questo video è tutto ragazzi non mi resta altro che salutarvi e noi naturalmente ci vediamo all'interno del prossimo video ciao e alla prossima